E vogliamo una società socialista che corrisponda alle condizioni del nostro paese, che rispetti tutte le libertà sancite dalla Costituzione, che sia fondata da una pluralità di partiti, su un concorso di diverse forze sociali. Una società che rispetti tutte le libertà meno una. Quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà tutte le altre distrugge e renderà.